La giustizia non si pronuncia e la politica locale prova a saperne di più attraverso gli organi di governo nazionale. Nel Vallo di Diano, procure e carabinieri continuano a non far filtrare nessuna informazione sull'indagine avviata alcune settimane fa, con il sequestro notturno a Polle e Sant'Arsenio di 16.000 litri di idrossido di potassio, a cui è poi seguito un altro sequestro ad Atena Lucana, dove sarebbero stati rinvenuti altri rifiuti pericolosi dello stesso genere. Le istituzioni locali, a partire dai sindaci, dopo aver provato in vano ad ottenere notizie sugli esiti dell'inchiesta, hanno sollecitato un incontro al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. La lettera, a firma del presidente Raffaele Accetta, descrive le preoccupazioni del territorio rispetto all'indagine in questione. È evidente, si legge nella missiva, che ciò aggrava la forte criticità di questo comprensorio e interessato negli ultimi tempi da un forte spopolamento e vanifica gli sforzi compiuti dalla comunità montana, individuata dalla regione Campania come area pilota della strategia delle aree interne ed individuata come ente capofila di 15 comuni per l'attuazione dell'accordo di programma quadro sottoscritto con il ministro delle infrastrutture e trasporti. Questo progetto, spiega Accetta, accosta, rappresenta per il Vallo di Diano l'ultima sfida ad oggi possibile per immaginare un futuro sostenibile per i nostri figli, ai quali, continua il presidente della comunità montana, siamo obbligati a consegnare un territorio potenziato nei suoi punti di forza, ampiamente riconosciuti, cultura, ambiente e agricoltura. Accetta chiude la lettera chiedendo al ministro all'Ambiente di supportare ogni iniziativa necessaria a rassicurare la comunità e potenziare l'attuazione del progetto in corso a salvaguardia dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile. Per tutto questo ha chiesto un incontro a costa insieme al presidente del Parco.